buongiorno buongiorno e benvenuti sono paola pirani di format spia vi do il benvenuto al webinar di oggi 11 gennaio 2022 il primo di questo anno che nel quale parleremo della disciplina del procedimento suop la replica del webinar che c'è stato a dicembre che ha avuto qualche problema tecnico allora questo questo webinar è all'interno del progetto azioni per il rafforzamento della capacità amministrativa degli sportelli unici per le attività produttive per la formazione degli stakeholder è un progetto che è fatto dalla regione evoluto dalla regione piemonte in collaborazione con anci piemonte e formez ed è un programma formativo informativo in materia di attività produttiva ambiente edilizia urbanistica ed è rivolto principalmente alle amministrazioni piemontesi in particolare responsabili degli sportelli unici enti terzi e stakeholder l'obiettivo è quello di formare eh il personale addetto agli sportelli unici del territorio regionale piemontese per poter aumentare le capacità di applicare le norme relative alle procedure di autorizzazione delle attività di imprese di concludere i i vari procedimenti in tempi certi e celeri abbiamo delle attività in programma come avete potuto anche vedere voi dalle pagine di eventi pia eh questo progetto formativo informativo si concluderà ad aprile duemila ventidue e i primi dieci webinar ehm abbiamo sempre l'appuntamento ogni martedì dalle dieci alle undici e trenta ehm in questa slide potete vedere tutti gli appuntamenti che ci vedono eh insieme e successivamente dopo l'ultimo webinar eh ci saranno organizzato anche dei sei seminari a livello territoriale oppure webinar di approfondimento vi ricordo che tutto lo potete trovare nelle pagine di eventi pia eh l'iscrizione per questi eventi è solamente appunto per ehm per la regione piemonte dunque ehm i nominativi sono presenti in una main list per poter entrare in questa main list occorre ehm mandare una scheda anagrafica a Piemonte su appchiacciolaformets.it eh vi ricordiamo che eh per mh per avere appunto eh le notizie su come iscriversi ci sono due nodi importanti su eventi pia eh uno è l'ottantadue trentasei l'altro è il quindici zero quarantuno nel quale eh spiega tutte le procedure tecniche per poter eh fruire al meglio di questi webinar. Ricordo ancora che appunto nella pagina di eventi pia nell'elenco 24943 del eh sono presenti tutti questi appuntamenti e ehm potete anche vedere appunto da questa parte eh tutte le registrazioni e le slide di quelli già svolti cliccando sui link. Andiamo al nostro webinar di oggi. Eh dopo l'apertura e questa breve introduzione eh spasserò la parola al docente Riccardo Roccasalba che ehm ci spiegherà tutta la disciplina sul procedimento SUAP eh secondo il DPR 160 2010 per poi dare uno spazio alle vostre domande che potete scrivere nella chat. I punti di oggi saranno il funzionamento e l'organizzazione del SUAP, il procedimento ordinario e la scia condizionata e la variante urbanistica sul progetto. Come dicevo prima lasciate questo utile strumento nel quale voi potete scrivermi se ci sono alcune qualche eh per avere supporto ma soprattutto per poter porre le domande che poi saranno date al docente. La maggior parte risponderà durante questo webinar e ehm successivamente appunto nelle domande che non sono non si è potuta dare risposta le poi troverete nella pagina di eventi pia nella quale vi si è descritti insieme alle slide e alla registrazione di questo evento. A questo punto non mi resta che augurare un buon proseguimento e un buon lavoro e lascio la parola e invito Riccardo Roccasalba ad accendere la sua webcam e carico le slide. Prego. Grazie Paola, buongiorno a tutti. Allora oggi come è stato anticipato affronteremo il il discorso che già avevamo provato a introdurre lo scorso 14 dicembre ma che come ricorderete insomma fu interrotto per qualche problema tecnico. Quindi oggi parleremo fondamentalmente del ehm di Piera 160 e la disciplina non soltanto dal punto di vista eh come dire normativo e giuridico ma anche dal punto di vista organizzativo relazionale diciamo del dell'implementazione del SUAP. Quindi chiaramente cerchiamo di non dare nulla per scontato la platea dei partecipanti che oggi è piuttosto vasta quindi immaginiamo che ci siano persone molto esperte di SUAP e altri che magari sono sono più indietro quindi ha qualcuno alle prime armi quindi cerchiamo di dare una infarinatura di carattere generale. Allora cominciamo subito eh entriamo subito in argomento eh parliamo subito della dell'organizzazione quindi di come secondo il DPR 160 può essere costituito il SUAP. Innanzitutto eh come ti ricorda l'articolo 4 del DPR il regolamento appunto dello sportello unico in vigore eh dal fondamentalmente poi dal duemila dal duemila dall'anno successivo il SUAP può essere gestito o in forma singola o in forma associata. In forma singola ehm sia in forma singola che in forma associata può essere eh autonomo quindi accreditato presso il ministero dello sviluppo economico quindi il comune si fa carico di avere una propria piattaforma un proprio sistema eh attraverso il quale è possibile all'utente accedere a tutta una serie di servizi che poi dopo meglio descriveremo. Oppure l'alternativa è ehm proprio o anche presso una piattaforma regionale, presso altre piattaforme. Oppure si può avvalere della piattaforma della camera di commercio imprese in un giorno punto copo punto it eh tramite una convenzione oppure mediante una semplice delega degli aspetti eh strumentali alla camera di commercio competente per territorio. Quindi quando si parla di SUAP camerali cosiddetti si intende un SUAP o in convenzione o in delega con la ehm con la camera di commercio. Allora veniamo ad aspetti più eh propriamente organizzativi quindi una domanda che spesso si fa si fa in questi webinar eh che riguarda non soltanto quei comuni che ora stanno sembra sembra strano dirlo nel 2022 ma eh a volte succede comuni che o che stanno per la prima volta o che più spesso stanno ripensando dove allocare dove e come allocare il SUAP all'interno della della tecnostruttura comunale. Naturalmente non c'è una regola e l'ordinamento giustamente lascia spazio alla eh come dire alla eh all'autonomia statutare e regolamentare del singolo ente nel caso in cui si tratti di una di una gestione in forma in forma singola. Altrimenti agli accordi che vengono sottoscritti eh in caso di gestione del servizio in forma associata. Quindi quando c'è una gestione associata e nel nel regolamento eh diciamo generale del del consorzio dell'unione di comuni quello che sia dove si gestisce si stabilisce dove e come viene viene allocato lo sportello unico per le attività produttive. Quello che è importante in entrambi i casi il principio per cui nel procedimento unico che sia procedimento unico ordinario o procedimento unico semplificato a seconda dei casi poi vedremo meglio dopo eh né eh le pubbliche amministrazioni, gli enti terzi né gli altri uffici comunali che ricordiamoci ai fini del suo app sono sempre e comunque come se fossero enti terzi rispetto al suo app stesso possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori nulla osta e quant'altro e mh se ricevono qualcosa dal dal richiedente dal privato devono trasmettere senza ritardo al suo app tutte le eh le pratiche che sono arrivate mettendo in conoscenza il richiedente. Questo perché? Perché la norma vuole che ci sia un canale di comunicazione unica tra la pubblica amministrazione rappresentata dallo sportello unico per le attività produttive e eh è richiedente quindi questo è il questo è il criterio. Come ehm dove e come collocare il suo app all'interno dell'amministrazione? Naturalmente come dicevo prima non c'è una ricetta unitaria e valida per tutti i casi. Eh il suo app può essere un nuovo ufficio quindi che viene eh come dire viene aggiunto agli altri oppure può derivare può essere una struttura che deriva dall'accorpamento di funzioni di due o più uffici. Non c'è una una regola fissa l'importante è che vi sia stata a monte una valutazione ponderata e articolata che tenga conto fondamentalmente di eh di due fattori ma ce ne possono essere altri naturalmente. Il primo è tenere conto del tessuto produttivo che esiste nel territorio di riferimento e questo chiaramente capite bene che il tessuto produttivo che esiste nel mio comune eh a cascata determina anche la tipologia di pratica che più eh che in maniera più ricorrente vengono presentate al SUAP. Eh e quindi magari ecco in questo caso si può privilegiare la il settore commercio attività nonarie, l'artigianato piuttosto che eh l'ufficio l'ufficio edilizia urbanistica e quant'altro. Ma va considerato anche eh chiaramente quelli che sono i profili professionali e la quantità proprio la numerosità del personale in forza ai vari uffici. Quindi occorre anche fare questo tipo di valutazione. Nell'ottica di che cosa? Di assicurare comunque alle imprese un servizio che sia a parità purtroppo di risorse che sono sempre più scarse efficienti eh efficienti ed efficaci. Quindi l'obiettivo è sempre quello di assicurare un servizio ehm che sia efficiente ed efficace per le imprese. Perché ricordiamolo tutte queste innovazioni non soltanto del DPR 160 ma anche di quelle che abbiamo visto nello scorso webinar del del ventuno dicembre in merito alla conferenza dei servizi sono innovazioni che a volte aggravano il lavoro dei responsabili del procedimento ma vengono fatte a tutela della dei richiedenti di cui vi avanza una in istanza la pubblica amministrazione. Sempre per quanto riguarda gli aspetti organizzativi eh del SUAP importante è il rapporto con il con l'ufficio diciamo così eh simile se non gemello che è lo sportello unico per le edilizie. Quello che è previsto è disciplinato già dal 2001 dall'articolo 5 del DPR 380 che come sapete è il testo unico delle edilizie. Allora eh anche qui il DPR 160 ci dà un'indicazione importante eh all'articolo 4,6 dove dice salva diversa disposizione dei comuni quindi a meno che il comune non abbia abbalendosi della propria eh come dire potestà regolamentare stabilito diversamente eh ripeto salva diversa disposizione sono attribuite al SUAP le competenze del sportello unico per l'edilizia produttiva. Quindi quando si tratta di edilizia produttiva comunque è il SUAP che deve alla fine eh rilasciare il provvedimento finale all'interessato. Già del resto eh il 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 comma 1 bis dell'articolo 5 citato del del DPR 380 quindi del testo unico dell'edilizia già prevedeva quindi va anche nella normativa speciale edilizia era già previsto ed è previsto tuttora una riserva di competenza non una prevalenza una riserva di competenza per lo sportello unico per le attività produttiva. Resta ferma comunque la competenza dello sportello unico per le attività produttive. Quindi quando vi è una pratica edilizia di carattere produttivo quindi funzionale all'esercizio di un'attività produttiva naturalmente tutto deve essere gestito eh attraverso eh questo criterio che trovate nell'ultimo punto eh nell'ultimo punto della slide. Le slide stanno andando un po' ecco qua. Non so perché si muovono in maniera eh in maniera vertiginosa. Allora eh quindi ecco qua. Anche in caso di separazione organizzativa tra il SUAP e il SUE il titolo abilitativo quindi edilizio richiesto per un impianto produttivo è sempre unendo procedimento all'interno del procedimento unico che afferisce al SUAP. Quindi eh anche se non vengono accorpati due uffici come come in alcune regioni è stato previsto l'olio per legge no? Come per esempio il caso dell'Umbria o della della Sardegna dove si parla di SUAP eh quindi sportello unico per le attività produttive e le edilizie. Quindi anche se rimangono separati il titolo abilitativo richiesto per un impianto produttivo è unendo procedimento. Quindi questo cosa vuol dire? Che il titolo abilitativo per impianti produttivi di beni e servizi eh viene rilasciato dal SUE quindi dallo sportello unico per edilizia ma sempre all'interno del procedimento unico. Quindi sempre all'interno sempre deve essere rilasciato mai al diretto interessato ma sempre al SUAP insieme a tutti gli altri atti di assenso comunque eh richiesti dalla normativa. Quindi al al SUE lo sportello unico per l'edilizia cosa compete? Compete soltanto che non è poco naturalmente la gestione dell'endoprocedimento edilizia quindi edilizio quindi verifica del rispetto della normativa edilizia urbanistica il controllo per quanto riguarda le relazioni elaborati richiesti eccetera eccetera. Quindi anche se al SUE viene assegnata la competenza in materia di edilizia produttiva l'interessato deve comunque presentare l'istanza al SUAP il quale poi naturalmente si interfaccerà col SUE come fa con qualsiasi altro ufficio comunale o come con qualsiasi altra amministrazione terza. Veniamo poi in questa breve carrellata ai rapporti tra il responsabile del SUAP e il responsabile del procedimento. Intanto come viene individuato il responsabile del SUAP? Anche qua viene citato l'articolo 4,4 del regolamento quindi del DPR 160 secondo le forme previste dagli ordinamenti interni dei singoli comuni o dagli accordi sottoscritti in caso di associazione tra il personale che appartiene naturalmente ai livelli apicali della tecnostruttura dell'ente oppure ai sensi dell'articolo 110.2. L'articolo 110.2 lo sapete bene che è quello che prevede l'incarico dirigenziale in pianta organica comma 1 o al di fuori della dotazione organica comma 2 ma può essere dato anche nei comuni privi di personale dirigenziale e l'incarico ai sensi del 110 naturalmente a personale di categoria D quindi dipende sempre poi dal livello demografico e dalla struttura dalla dotazione organica presente in quel comune. Quello che è importante è che l'utente, l'interessato nel cui interesse questa norma è stata posta deve sempre sapere che c'è qualcuno che si farà carico della sua domanda e questo qualcuno è il segretario comunale quindi finché non viene individuato dal comune il responsabile del SUAP io come imprenditore presento la pratica e so che il responsabile è il segretario comunale. Naturalmente questo è un caso che ben raramente si presenta perché appunto almeno formalmente il responsabile SUAP viene sempre nominato. Anche nei rapporti tra il responsabile SUAP e il responsabile SUE la scelta se optare per un solo responsabile dei due sportelli o per due responsabili distinti quindi il responsabile SUAP da un lato e il responsabile SUE dall'altro dipende sempre dalla scelta di qui sopra dove abbiamo parlato prima quindi da come si atteggia all'interno del singolo comune o della unione di comuni il rapporto tra SUAP e SUE. Resta fermo in ogni caso il discorso che abbiamo fatto prima sul fatto che l'endoprocedimento edilizio opera sempre all'interno del procedimento del procedimento unico quindi là quello che viene chiamato nell'articolo 10 o nell'articolo 15 del DPR 380 il permesso di costruire naturalmente nell'ambito del procedimento unico e unendo procedimento è come se fosse un parere che viene trasmesso al SUE al SUAP chiedo scusa e non direttamente al privato interessato. Che cosa ci dice il che cosa ci dice il 160 anche ma anche la 241 per quanto riguarda le attribuzioni e le responsabilità del responsabile SUAP? Il responsabile SUAP è il referente per l'esercizio del diritto di accesso che oggi come sapete può essere di tre tipi accesso documentale quello previsto dagli articoli 22 e seguenti della 241 ma anche il particolare diritto di accesso che è stato introdotto nel nostro ordinamento dall'articolo 5 del decreto 33 del 2013 quindi che oggi si divide a sua volta in due tipi l'accesso civico e l'accesso generalizzato di cui chiaramente oggi non parleremo per motivi di tempo quindi comunque il responsabile SUAP è il referente per tutti i tipi di tipo di diritto di accesso anche se si riferiscono a documenti che sono detenuti dal SUAP non perché sono documenti comunali ma perché provengono da altre amministrazioni o da altri uffici comunali. responsabile di ciascun procedimento di competenza dell'ufficio e quindi chiaramente il responsabile SUAP è il responsabile di ciascun procedimento finché non provvede ad assegnare ad altro o ad altri dipendenti la responsabilità dell'istruttore oppure la responsabilità dell'istruttore in alcuni casi anche la responsabilità ad esempio di indire e convocare la conferenza di servizio di adottare il provvedimento finale. In questo senso basta leggere l'articolo 5 della legge 241 quindi finché non vi è una delega di attribuzioni che naturalmente va debitamente pubblicata sul sito dell'amministrazione oltre che sul sito del SUAP ma anche nella sezione amministrazione trasparente del sito comunale io come imprenditore devo sapere chi è il mio responsabile del procedimento del resto per questo motivo un contenuto indefettibile della comunicazione ad avvio del procedimento è proprio il nominativo del responsabile del procedimento che può essere me stesso come responsabile SUAP oppure un mio funzionario, un mio collaboratore che però appunto deve essere la cui esistenza, il cui domicilio digitale deve essere puntualmente comunicato all'interessato. Andiamo avanti, ecco veniamo adesso ad un aspetto importante per quanto riguarda l'utilizzo della telematica all'interno del DPR 160 del 2010. Quindi cosa dice il DPR 160 per quanto riguarda l'utilizzo della telematica? Intanto all'articolo 2 c'è un principio molto importante come 2 e 3 le domande, le dichiarazioni, tutte le pratiche, le segnalazioni, le scia, le comunicazioni che riguardano il SUAP sono presentati esclusivamente in modalità telematiche. Quindi in questo senso il DPR 160 precorre quelle che sono state le recenti innovazioni apportate al procedimento in generale dalla legge 241. Quindi non soltanto la pratica nasce digitale perché viene presentata al SUAP in forma digitale, ma rimane digitale perché il SUAP, comma 3 dell'articolo 2 provvede all'inoltro telematico della documentazione e alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione. Dopodiché, articolo 4, il SUAP assicura richiedente una risposta telematica, telematica unica e tempestiva in luogo di tutti gli altri enti o degli altri uffici comunali coinvolti nel procedimento, comprese le sovrintendenze, comprese le ASL, comprese i vigili del fuoco. Quindi quello che fanno gli altri uffici comunali o gli enti terzi a valle del nostro invio non è una cosa, come dire, che deve interessarci più di tanto, nel senso che noi le mandiamo in formato digitale, né ci possono essere chieste carte, questo lo leggiamo chiaramente anche nelle recenti riforme della 241. Poi se loro vogliono, se l'altro ufficio vuole stampare degli elaborati, dei progetti, perché si trovano meglio a istruire la pratica sul cartaceo, è una scelta libera, ma non deve, non può mai essere chiesto al SUAP di inviare elaborati in forma cartacea, questo sia ben chiaro. Qui in queste due slide vi sono delle, appunto quello che vi dicevo prima, ma ne parleremo meglio in altri webinar, quindi le innovazioni nel senso dell'utilizzo obbligatorio della telematica anche nella 241. Veniamo invece ad un altro aspetto importante legato al sistema dei pagamenti, sempre nel DPR 160. Il comma 13 dell'articolo 4 ci dice che il responsabile del SUAP pone a carico dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti dalla disposizione di leggi statali e regionali vigenti, quindi quelli che sono i diritti che bisogna pagare per gli endoprocedimenti che vengono attivati, vanno naturalmente pagati, provvedendo alla loro riscossione e al loro trasferimento alle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento stesso. Allora, da questo punto di vista una prima disciplina di come poi concretamente effettuare i pagamenti e di cosa trasmettere al SUAP è stata inserita in un decreto interministeriale del 10 novembre 2011 che prevedeva questo. Se i SUAP non consentono il pagamento dei diritti di istruttore in modalità telematica, le ricevute dei pagamenti sono allegate in modalità informatica all'istanza o alla segnalazione, quindi tipicamente cosa avveniva, come avviene tuttora adesso in molti casi, io faccio un pagamento, il bollettino, quello che sia, faccio la scansione, l'allego e magari in formato PDF alla pratica e la trasmetto al SUAP. Per la marca da bollo il medesimo decreto prevedeva che dovevano essere inseriti nella domanda, perché ricordiamoci che la marca da bollo si mette sulle domande e sui titoli autorizzatori, non sulle scia o sulle comunicazioni, questo lo prevede la legge sul bollo, quindi una normativa fiscale che riguarda specificamente il SUAP, quindi nella domanda il SUAP è il soggetto, prevede inserire i numeri identificativi della marca da bollo utilizzate, nonché ad annullare le stesse, conservando negli originali. Vi segnalo giusto questo dato, nel momento in cui ci vengono indicati i numeri identificativi della marca da bollo, noi possiamo anche attraverso un sito apposito dell'Agenzia delle Entrate, verificare se quella marca da bollo sia stata già utilizzata in precedenza o se sia, tra virgolette, nuova. Questo per evitare utilizzi fraudolenti. Meno di un anno fa, tuttavia, è entrato in vigore un nuovo sistema e più moderno, naturalmente, di pagamenti, che è stato previsto proprio dal decreto semplificazioni, quello di cui già abbiamo parlato in maniera sintetica nello scorso webinar del 21 dicembre, il decreto 76 del 2020, e che prevedeva il 28 febbraio dello scorso anno, quindi del 2021, come termine entro il quale le PA, quindi anche i SUAP, dovevano fare tre cose fondamentalmente. Integrare nei propri sistemi informativi lo SPID e la CIE, lo SPID è il sistema pubblico di identità digitale, quello che tutti utilizziamo, anche come cittadini, per profilarci nei siti della pubblica amministrazione, e la carta di identità elettronica, come unico sistema di identificazione per l'accesso ai servizi digitali. E anche, naturalmente, qui non c'è, ma vale anche la CNS, la carta nazionale dei servizi, quella rilasciata dal sistema camerale. Non solo, ma per quanto riguarda i pagamenti, integrare anche la piattaforma PagoPA nei propri sistemi di incasso, quindi qui dal 28 febbraio scorso questo è obbligatorio. E poi, avviare, questo è più complesso, naturalmente i progetti, quindi avviare, non necessariamente completare, avviare i progetti di trasformazione digitale necessari per rendere possibili i propri servizi anche sull'app IO. Sapete che l'app IO è quell'app che è stata sviluppata di recente, che serve per interfacciarsi con tutta una serie di pubblica amministrazione, tra cui anche, per esempio, l'ACI per pagare il bollo dell'auto, eccetera, eccetera. Ecco, teoricamente, anche sull'app IO dovrebbe l'utente, in questo caso l'imprenditore, dovrebbe trovare anche la possibilità di interfacciarsi con l'APA. Questi obblighi sono ricordati, sono elencati e sono meglio specificati anche in una circolare di cui vi ho indicato il link del 9 febbraio scorso del Ministero dell'Interno. Quindi che cosa succede per i suapp? Quindi dal 28 febbraio scorso anche i suapp autonomi, quindi quelli che si sono accreditati presso il Ministero dello Sviluppo Economico, devono integrare nei propri sistemi informativi, non soltanto lo speed, la carta di identità elettronica, come sistema unico ad identificarsi, quindi per potermi o profilare, per potermi o loggare, come oggi si dice, al sito del suapp, devo utilizzare o la speed, o la carta di identità elettronica o la CNS. Ma non solo, la piattaforma Pago.pa deve essere utilizzata come sistema nei sistemi di incasso per riscuotere le entrate. Quindi che cosa succede? Che le vecchie credenziali che noi eventualmente avevamo previsto e rilasciato per l'accesso, per la profilazione e quindi per l'autenticazione ai nostri sistemi, dovevano essere valide fino alla scadenza e comunque non oltre il 30 settembre 2021. Poi, se chiaramente anche dopo questa scadenza si è ritenuto utile e opportuno mantenere le vecchie credenziali, questo naturalmente è una cosa che compete a ognuno di voi, però questo è quello che prevede la norma. Quindi dal 30 settembre dello scorso anno occorre autenticarsi ai nostri siti esclusivamente attraverso la speed, la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi. Un altro aspetto importante, sempre che riguarda la telematica, che è ancora più recente, riguarda il nuovo allegato tecnico al DPR 160. Ecco, questo è stato pubblicato, sapete che nel DPR 160 c'è, o meglio c'era, perché adesso è stato da considerarsi abrogato, un allegato tecnico che specificava il formato file e tante altre informazioni di come tecnicamente oppure un punto informaticamente presentare la pratica ESUAP. Questo allegato, a partire dal, diciamo, dalla data di pubblicazione, quindi dal 16 novembre dello scorso anno, è stato abrogato perché è stato emanato questo nuovo decreto interministeriale, quindi tra, firmato dai ministri del MISE, Ministero Sviluppo Economico, il Dipartimento della Funzione Pubblica e il Ministero della Transizione Digitale, perché sono adottate nuove modalità telematiche di comunicazione e di trasferimento dei dati tra il SUAP e i soggetti coinvolti nei procedimenti. E quindi questo allegato sostituisce dal 16 novembre l'allegato tecnico al DPR 160. E questo è importante rilevare, che questo intervento è uno delle, come dire, uno degli interventi previsti e finanziati dal PNRR, che è un appunto, c'è un'apposita missione della missione 1 appunto del PNRR che fa capo come gestione al Dipartimento della Funzione Pubblica. Ed è importante perché c'è una cospicua dotazione finanziaria che è 324 milioni di euro. Qual è l'obiettivo di questa missione 1? Semplificare o ridefinire entro il 2026 circa 600 procedimenti. Che cosa prevede questo nuovo allegato tecnico? Non prevede direttamente le specifiche tecniche, perché le nuove specifiche tecniche di come presentare la pratica dal punto di vista informatico ai SUAP verranno stabilite da un successivo decreto che va emanato entro otto mesi, quindi fondamentalmente entro il 10 luglio 2022, da parte degli stessi ministri, quindi il Ministero di Sviluppo Economico, il Dipartimento della Funzione Pubblica e il Ministero della Transizione Digitale, previa intesa con la conferenza unificata, appunto adotteranno questo decreto che dovrà approvare le specifiche tecniche. Qual è il, diciamo così, il punto cardine anticipato fin da ora che trovate sia nell'allegato tecnico entrato in vigore il 16 novembre, sia nel futuro, sicuramente nel futuro decreto. L'interoperabilità, questo è un aspetto fondamentale. Oggi abbiamo una miriade, miriade di piattaforme, alcune camerali, altre regionali, abbiamo le piattaforme private di cui si abbalgono molti SUAP, ecco che però non interoperano fra loro e poi abbiamo sempre dal punto di vista verticale alla piattaforma dei vigili del fuoco, di altri enti, eccetera, eccetera. Quindi si vuole creare, diciamo così, una sorta di infrastruttura comune, che dovrà, dentro cui ogni parte, ogni attore, ogni sistema telematico dovrà dialogare con l'altro. Quindi questo è l'aspetto molto importante. Infatti l'articolo 3 dell'allegato, questo è proprio il fulcro del sistema, del nuovo sistema come configurato da questo nuovo allegato tecnico, disciplina il sistema informatico degli sportelli unici, che è l'insieme dei sistemi informatici non soltanto dei vari SUAP, ma anche degli enti terzi, che dovranno essere conformi alle specifiche tecniche di qui sopra. Quindi tutti i sistemi informatici, non soltanto del SUAP, ma anche dei vigili del fuoco, delle sovrintendenze, ove mai ce ne fossero, della regione, della provincia città metropolitana, di tutti gli enti che in qualche modo si interfacciano con i SUAP, devono avere dei sistemi che si interfacciano con le specifiche tecniche che dovranno interfacciarsi, con le specifiche tecniche che verranno emanate entro il 10 luglio del 2022. Come si comporrà questo sistema informatico degli sportelli unici? Intanto ci sarà naturalmente una parte front office SUAP, che è quella che già oggi deve consentire l'interazione con i soggetti che presentano un'istanza al SUAP, ma anche una parte back office, perché questa è una parte importante del sistema, quindi il back office sarà quell'ambiente web che riceve l'istanza dalla parte, dalla sezione front office e che deve coordinare le comunicazioni da e verso gli enti terzi, dove l'operatore SUAP lavora proprio fisicamente la pratica. Poi ci sarà una componente importante che è già implementata in parte nel sistema camerale, ma che appunto dovrà essere parte integrante del nuovo sistema informatico degli sportelli unici, la componente enti terzi, quindi mentre oggi noi siamo costretti a, anche chi lavora la pratica con la propria piattaforma, è costretto a, come dire, a mandare una PEC all'ente terzo, il quale ente terzo risponde con la PEC, qui invece utilizzando questa componente, tutto il procedimento unico, anche quando comprende enti terzi, quindi amministrazioni ulteriori rispetto al comune, potranno ricevere e lavorare la pratica, ma senza mai abbandonare la piattaforma. Questo è un aspetto molto, molto, molto importante. Infine, la quarta e ultima componente, non meno importante, sarà il catalogo del sistema informatico degli sportelli unici, quindi sarà una base dati di conoscenza unica e condivisa tra i suoi appeglienti terzi, quindi una, come si chiama in gergo informatico, una repository, un contenitore, una sorta di cartella, animica cartella, dove ci sarà tutta la documentazione, la base dati condivisa tra i suoi appeglienti terzi. E il portale Impresi in un giorno già mette a disposizione dei comuni tutta una serie di componenti, tra cui il front office e il back office. Ok, veniamo adesso a parlare sempre all'interno del DPR 160 del procedimento ordinario, quindi le istanze per esercitare le attività sono presentate al SUAP, il quale nei 30 giorni, parliamo adesso del procedimento ordinario, quindi autorizzatorio, ordinario non vuol dire quello più semplice, ma quello meno semplice, diciamo così, quindi stiamo parlando dell'articolo 7 del DPR 160, quindi quello che di fatto è il procedimento autorizzatorio, anche se nella rubrica del titolo del 160 trovate il procedimento ordinario, quindi nei 30 giorni il SUAP deve fare la verifica della compartezza della documentazione, quindi può chiedere all'interessato eventualmente documentazione integrativa. Di corso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata, quindi il comma 1 dell'articolo 7 non lo dice, ma è chiaro e scontato che in questi 30 giorni vada effettuata la verifica non soltanto da parte del SUAP, ma anche eventualmente da parte degli altri uffici comunali e degli enti terzi che hanno ricevuto l'istanza e che nei 30 giorni devono comunicare al SUAP se vi sono esigenze di integrazione della documentazione. Il SUAP, terminata questa prima fase di 30 giorni, nei successivi 30 giorni adotta il provvedimento conclusivo, quindi si parla di 30 più 30, quindi teoricamente in 60 giorni il procedimento deve concludersi. Tuttavia il comma 3 prevede quando è necessario acquisire nulla a osta, concerti o assenze di diverse amministrazioni pubbliche, vi ricordate ne abbiamo parlato il 21 dicembre scorso commentando i nuovi articoli da 14 a 14 quinquies della 241, quindi le cause di attivazione oggi sono le stesse, quindi il responsabile SUAP indice una conferenza dei servizi ai sensi appunto degli articoli da 14 a seguenti della 241 o delle altre normative di settore. Questo indice, ve l'ho voluto sottolineare perché è importante, dice una cosa importante, nel testo previgente, come già accennammo l'altra volta, era previsto che il SUAP, il responsabile SUAP può indire, oggi no, oggi non c'è nessuna scelta, se si verifica, se si avvera una delle, l'unica causa diciamo prevista dal 241, quindi se vi sono atti di assenso comunque denominanti che devono essere rilasciati da più amministrazioni pubbliche, il SUAP deve, indice come dicemmo l'altra volta, il verbo, il modo indicativo sta a indicare un obbligo, l'indice vuol dire deve indire la conferenza dei servizi. E anche se non è previsto espressamente dalla norma, l'eventuale richiesta di integrazione naturalmente sospende, come uso in questi casi, il decorso dei termini del procedimento. Sospensione che può essere disposta una sola volta, una tantum, e quindi per un periodo non superiore a 30 giorni, per acquisire informazioni o certificazioni, ricordiamoci, relativi a fatti, stati o qualità che non sono in possesso del nostro comune o di un'altra pubblica amministrazione, altrimenti dobbiamo scrivere al nostro collega e chiedere la verifica delle autofertificazioni fatte dall'interessato. Se nei 30 giorni o in un termine eventualmente superiore l'interessato non presenta le richieste di integrazioni, né chieda un breve differimento, l'istanza viene archiviata. È importante il concetto dell'archiviazione perché di fatto non è una, anche giuridicamente, non è un rigetto, il rigetto si fa quando io sono entrato nel merito dell'istanza e non la ritengo accoglibile. Qua si parla di archiviazione dell'istanza proprio perché c'è stata una mancanza di integrazione. Andiamo sicuramente avanti. Che cosa succede in questi casi? Questo è un aspetto importante che vi voglio sottolineare. È scaduto il termine di 30 più 30 oppure, in caso di mancata ricorsa alla conferenza dei servizi, si applica l'articolo 38,3 lettera H del decreto legge 112 del 2008. L'articolo, cioè il decreto legge 112, vi ricordo non è un decreto legge come un altro, ma è proprio la legge delega sulla base della quale il governo ha emanato il DPR 160, quindi è quello che prevede il nuovo sportello unico digitale. Cosa prevede la lettera H? L'amministrazione procedente, che in questo caso è il SUAP, conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso, si fa riferimento al loro avviso, cioè dal rilascio dei pareri. In tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi. Questo per dire che cosa? Che la nostra responsabilità come responsabile di SUAP è una responsabilità esclusivamente procedimentale e non può essere invece estesa da aspetti che non ci competono. Quindi se vi è qualcosa di eventualmente illegittimo previsto da un parere che ci è stato rilasciato nel merito, naturalmente non è compito nostro fare un sindacato sulla legittimità o meno del parere. Noi dobbiamo fare appunto la verifica della completezza della documentazione, trasmettere la documentazione stessa, acquisire i pareri nei tempi previsti dalla legge e se non arriva il parere nel tempo previsto, questo purtroppo è una determinata conseguenza che si riverberano esclusivamente su chi quel parere non ce l'ha proprio rilasciato. Questo è importante. Del resto vi ricordo, e non può essere diversamente, che con la legge di semplificazione per il 2020, la legge 76, è stato introdotto questo nuovo comma 8bis nell'articolo 2 della 241 che prevede, poi ne parleremo più diffusamente in uno dei prossimi webinar, che prevede l'inefficacia dei pareri rilasciati oltre i termini. Ma qua non parliamo neanche di pareri tardivi, parliamo di mancato rilascio dei pareri, quindi il responsabile del SUAP non solo può, ma deve concludere il procedimento. Stessa cosa che naturalmente va fatta in conferenza di servizi. Il provvedimento conclusivo del procedimento è titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste. Su alcuni aspetti parleremo più ampiamente in proseguo, quindi per quanto riguarda l'efficacia dei pareri tardivi, la comunicazione di motivi ostativi e la nuova procedura temporanea della conferenza semplificata, appunto di questa abbiamo già parlato la volta scorsa, di altri aspetti parleremo nell'ambito dei prossimi webinar. Quello che invece è importante, segnalare che appunto vi sono poi altre, anche qua naturalmente essendo argomento del prossimo webinar di cui tratterà il mio collega l'ingegnere Pugioni, in materia della scia mi sembra già l'unica prossima, questa è una, io ho messo queste slide ma ne parlerà meglio e più diffusamente il collega la prossima settimana, quindi in particolare la scia condizionata, così come anche della scia unica. Quello che invece è una cosa che voglio, su cui voglio farlo fortemente appuntare la vostra attenzione è la, diciamo così, la materia della variante urbanistica puntuale, la variante urbanistica sul progetto, quella prevista dall'articolo 8 del DPR 160. Qual è il discorso da fare? Qua stiamo parlando di una variante urbanistica non di area vasta, ma una variante urbanistica chiesta dall'imprenditore per consentire l'esercizio di una determinata attività. Quindi l'articolo 8 cosa ci dice? Ci dice che nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, poi dopo anche sulla nozione di insufficienza di aree vedremo degli utili spunti giurisprudenziali che hanno colmato quella che è un dettato normativo non sempre così puntuale. Fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale e voi avete una disciplina regionale che tra poco subito commenteremo, l'interessato può chiedere al responsabile del SUAP di convocare la conferenza dei servizi, sempre a norma e esensi degli articoli da 14 a 14 quinquies della 241 in seduta pubblica. Ecco, la cosa importante a proposito della regione Piemonte è questa circolare del Presidente della Giunta regionale del 21 febbraio 2019, la numero 2 che ci dice che la sussistenza dei presupposti, quindi quale l'assenza o insufficienza di aree rispetto al progetto presentato, questo deve essere verificato da responsabile del procedimento prima che venga convocata la conferenza dei servizi. Quindi questo è un prerequisito che deve essere già acclarato, appurato prima che venga trasmessa telematicamente la comunicazione di indizione. Conseguenza qual è? Che naturalmente nell'atto di indizione questo deve essere già esplicitato, quindi deve già risultare dalla motivazione della convocazione della conferenza. Quindi indico e convoco la conferenza perché naturalmente ho già verificato almeno il requisito minimo, quello della insufficienza o totale assenza di aree destinate a quell'insediamento. I requisiti invece che riguardano gli altri aspetti, cioè il fatto che il progetto è comunque conforme alle norme in materia ambientale, in materia sanitaria e in materia di sicurezza del lavoro, vengono verificate nell'esame del progetto in sede di conferenza dei servizi. Allora, che cosa prevede poi l'articolo 8? Qualora l'esito della conferenza dei servizi comporta la variazione dello strumento urbanistico, quindi se la conferenza si è chiusa con esito favorevole e a patto naturalmente che sussista l'assenso della regione espresso in quella sede, il verbale viene trasmesso al sindaco o al presidente del Consiglio Comunale, ove esistente che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Un altro aspetto importante da notare qua qual è? Che naturalmente deve sussistere l'assenso della regione. Noi l'altra volta abbiamo detto che vi sono, parlando della conferenza contestuale, articolo 14 ter della 241, vi ricordate il 21 dicembre, abbiamo accennato al fatto che il responsabile del SUAP alla fine decide sulla base delle prevalenti posizioni espresse, quindi eventualmente può anche bypassare, può anche non considerare prevalente un determinato parere negativo. Ecco, non è questo il caso. Nel caso in cui non vi sia l'assenso della regione, quindi la regione abbia votato contro, naturalmente non è possibile procedere. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, quindi dall'articolo 8,1 del DPR 160, devono essere avviati e conclusi da richiedente secondo delle modalità e le tempistiche previste dall'articolo 15 del DPR 380 del 2001. Vi ricordo che l'articolo 15 del DPR 380 del 2001 è quello che stabilisce che il progetto, quindi il cantiere una volta aperto deve essere, cioè deve essere aperto entro un anno dal rilascio del permesso di costruire, salvo proroghe, e deve essere concluso, i lavori devono essere conclusi entro tre anni dall'apertura, dall'inizio dei lavori, salvo anche qua richiesta motivata di proroghe. Quindi una volta esaurito il procedimento di variante si segue la normale tempistica prevista dall'articolo 15 del DPR 380 del 2001. Anche qua naturalmente sull'aspetto proprio della conferenza dei servizi ci sono delle norme regionali importanti che dobbiamo sempre considerare, quindi nel caso della variante urbanistica puntuale c'è l'articolo 17 bis della legge regionale 56 del 77, che prevede che l'interessato chiede al responsabile suo di convocare la conferenza dei servizi, ma deve contestualmente alla richiesta presentare che cosa? Il progetto delle attività che si vogliono insediare, completo della proposta di variante urbanistica, che deve comprendere che se necessario gli elaborati di natura ambientale secondo questo procedimento. Allora il responsabile suo verificata la completezza degli atti ricevuti e verificata che la proposta sia tecnicamente procedibile, convoca la conferenza dei servizi. Che cosa vuol dire tecnicamente procedibile? Vuol dire che siano stati precedentemente espletate delle attività, quali ad esempio la verifica della soggettabilità a VAS, che poi subito vedremo. Quindi verificato questi aspetti di procedibilità tecnica, il responsabile suo convoca la conferenza dei servizi in seduta pubblica, ai sensi degli articoli da 14 a 14 quinquist della 241 e delle altre norme di settore. La conferenza si esprime in via ordinaria entro 30 giorni dalla prima seduta, termine sicuramente impegnativo da rispettare, ma ricordiamoci che alcune fasi, non soltanto la verifica della soggettabilità e anche l'eventuale, poi VAS vera e propria, ma anche la verifica della insufficienza o assenza di aree in relazione al progetto presentato sono prerequisiti, quindi sono attività che devono essere state compiute in via preistruttoria rispetto alla conferenza stessa. Comunque la conferenza deve chiudersi in via ordinaria entro 30 giorni. Chi partecipa alla conferenza dei servizi partecipa il comune o i comuni interessati, se il progetto investe dal punto di vista territoriale più comuni, la provincia o città metropolitana di Torino naturalmente e la regione, la quale si esprime tramite il proprio rappresentante unico. Partecipano chiaramente anche tutti gli altri enti, tutti gli altri soggetti, che possono anche non essere enti, ma soggetti ad esempio oltre al privato, possono esservi società, ne abbiamo parlato l'altra volta se ricordate, società preposte alla gestione di servizi di beni pubblici, quali quelle concessionarie dei servizi di rete che gestiscono i servizi di rete, gestiscono la distribuzione del gas, dell'acqua e quant'altro. Quindi questi sicuramente sono soggetti da invitare, ricordiamoci sempre anche che deve essere pubblicata la norma di legge per consentire il diritto di accesso di ogni altro interessato contro interessato. Allora, se la conferenza si conclude in maniera negativa, il responsabile suo restituisce gli atti al proponente e comunica le risultanze in forma scritta, fissando un termine per la risposta alle osservazioni ostative e la ripresentazione degli elaborati. Quindi qua già c'è, diciamo così, anche se qua parliamo di variante in forma contestuale, perché è chiaro che una variante importante come quella urbanistica deve svolgersi in maniera contestuale, che non vuol dire necessariamente fisica come subito dopo vedremo, ma anche telematica. Quindi in questo caso è previsto un dialogo collaborativo, quindi senza fare direttamente in maniera tombale una comunicazione, un atto formalmente di rigetto, io ho qua fisso un termine come responsabile suo per la risposta a questi motivi ostativi e alla ripresentazione degli elaborati. Se invece è poi chiaramente sulla base dei nuovi documenti eventualmente trasmessi al SUAP dalla richiedente, chiaramente la conferenza dovrà esprimersi. Nel caso invece di parere favorevole della conferenza di espressione positiva o di posizione positiva ma con condizioni, il responsabile SUAP cura la pubblicazione della variante che deve essere comprensiva delle eventuali condizioni poste dalla conferenza. Dove vengono pubblicati questi atti? Sul sito informatico di tutti gli enti interessati per 15 giorni consecutivi nel rispetto della normativa in materia di segreto industriale o aziendale. Quindi chiaramente tutto ciò che costituisce oggetto di privativa industriale deve essere opportunamente, come dire, bianchettato, come usa dirsi in questi casi. Nei successivi 15 giorni è possibile presentare osservazioni. Quindi questo è importante da notare. Quindi questo è un passaggio che è previsto fin dalla legge urbanistica nazionale che è la legge 1150 del 1942 che poi viene ripresa naturalmente dalle leggi regionali. Quindi c'è sempre un passaggio, prima che si completi la variante che sia di aria vasta o come in questo caso puntuale, c'è sempre un passaggio che deve essere fatto affinché tutti gli interessati e controinteressati possano presentare eventualmente opposizione. Dopodiché appunto la conferenza valuta le osservazioni eventualmente pervenute in questo lasso di 15 giorni e, previo acquisizione sempre dell'assenso della regione, si esprime definitivamente nei successivi 30 giorni. Quindi se vi sono state osservazioni, quindi c'è un primo lasso di 30 giorni, un primo segmento di 30 giorni dentro cui deve dare eventualmente un parere favorevole o favorevole con condizioni. Dopodiché viene pubblicata la determinazione positiva o positiva con condizioni su tutti i siti web degli enti interessati, nei successivi 15 giorni tutti possono presentare motivate osservazioni o opposizioni, dopodiché negli ulteriori 30 giorni la conferenza valuta tutto ciò. A questo punto che cosa fa il responsabile del SUAP, se nella conferenza si è chiusa anche in questa seconda battuta con esito favorevole, trasmette le conclusioni della conferenza insieme naturalmente a tutti gli elaborati tecnici e al Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale deve esprimersi sulla variante nella prima seduta utile, appena di decadenza. Quindi se non si esprime, questo lo prevede non soltanto la legge regionale, l'articolo 17 bis, ma lo prevede anche l'articolo 8, quindi deve esprimersi nella prima seduta utile. Qua viene esplicitamente indicata come conseguenza la decadenza del procedimento. La variante efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione Piemonte. È importante notare che in questo caso se non c'è, anche se vi è stato l'assenso di tutti gli enti, immaginiamo un procedimento perfetto è a volte quasi, come dire, ottimista al limite dell'utopia, per cui tutti i pareri sono stati favorevoli nei tempi, eccetera, eccetera, compresa la regione. Immaginiamo che ci siano anche osservazioni, ma che non vengono valutate come insormontabili da parte della conferenza, quindi se tutto è filato liscio. Tuttavia il Consiglio Comunale è comunque è e resta sovrano rispetto alla scelta sia approvare o meno quella proposta di variante, perché ricordiamo che la conferenza di servizi, come ci ricorda una sentenza della Corte Costituzionale che subito commenteremo, chiude una fase, dopodiché se ne apre un'altra che è una fase più prettamente politica che riguarda l'approvazione, quindi la conferenza di servizi si chiude con una proposta di variante, non con una variante. È solo ed esclusivamente il Consiglio Comunale che può approvare la variante proposta dalla conferenza di servizi. Sempre per quanto riguarda la legge regionale, la 56 del 77, l'articolo 17 bis, ci ricorda che sono vincolanti, anche se minoritari, all'interno delle conferenze, in questo caso della conferenza di variante puntuale, i pareri espressi dalla regione, con riferimento a che cosa, pareri espressi con delibera di giunta regionale, per quanto riguarda l'adeguamento o la conformità agli strumenti di pianificazione regionale o ad altri atti che si riferiscono comunque al paesaggio, all'ambiente, ai beni culturali, alla pericolosità o al rischio geologico, alle aree di elevata fertilità, alle infrastrutture o per quanto riguarda gli aspetti connessi alla VAS, o per assicolare il coordinamento di politiche territoriali, eccetera. Quindi in tutti questi ambiti, laddove la regione si si è espressa in maniera negativa, il parere della regione è assolutamente vincolante. Naturalmente, questo lo prevede già la legge nazionale, ma opportunamente la regione Piemonte lo ricorda, le varianti sono, come tutte le varianti, comprese quelle, le varianti puntuali sul progetto, sono soggette alla verifica preventiva di assoggettabilità al processo di VAS. La VAS è la valutazione ambientale strategica che va fatta appunto nei casi di variante. Nel caso in cui che è prevista, il cui procedimento è disciplinato poi anche nel dettaglio dal livello nazionale, dal codice dell'ambiente, il decreto legislativo 152 del 2006. Nel caso in cui il piano regolatore generale oggetto di variante è stato sottoposto alla VAS, la verifica di assoggettabilità, quindi è già stata assoggettata al VAS, la verifica di assoggettabilità e l'eventuale VAS sono limitate soltanto a quegli aspetti che non sono stati già oggetto di precedente valutazione, per evitare appunto una doppia verifica su stessi aspetti. Il soggetto proponente tuttavia può anche ritenere, per una sua tranquillità, per una sua idea e quant'altro, di assoggettare direttamente la propria proposta di variante alla valutazione ambientale strategica e quindi può attivare la fase di VAS senza svolgere la previa verifica di assoggettabilità. Chi è, naturalmente, qual è l'amministrazione responsabile del procedimento in questo caso? E quindi costituisce autorità competente per la VAS, lo stesso ente, la stessa amministrazione responsabile del procedimento, e cioè in teoria il SUAP, purché, opportunamente questo purché, perché chiaramente il SUAP in questo caso sia dotato di una propria struttura con una specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, altrimenti, così come per gli altri enti, ci si può avvalere della struttura tecnica della regione o della provincia barra città metropolitana di Torino o di un'altra amministrazione locale, come prevede, appunto, la vostra legge. Tornando alla circolare, invece, regionale, la circolare del 2 febbraio 2019, la numero 2, opportunamente, possiamo dire oggi leggendo questa disposizione in controluce, no, rispetto all'emergenza pandemica che stiamo vivendo, a maggior ragione oggi è consigliabile, come ci ricorda la circolare, consigliabile, appunto, svolgere le conferenze in modalità telematica, quindi, fermo restando che si tratta di conferenze da svolgere in forma contestuale, non semplificata, tuttavia, si possono tranquillamente svolgere in modalità telematica. E nel rispetto del principio di leale collaborazione tra enti, è bene opportuno concertare, nei limiti del possibile, le date delle sedute di conferenza, per consentire la partecipazione a tutti i soggetti interessati, quindi se abbiamo soprattutto degli enti di aria vasta, che possono essere la regione, i vigili del fuoco, la sovrintendenza e altri enti che magari quel giorno hanno altre conferenze, hanno altri impegni, ecco, magari è sempre opportuno concertare le date per evitare, appunto, poi un, come dire, un ping pong di richieste di spostamento della data. Naturalmente, per quanto possibile, perché è fatto salvo il rispetto dei termini massimi indicati nella legge 241, a cui opportunamente la vostra normativa si rifà. È necessario che il responsabile del SUAP, questo è opportuno che venga indicato, è necessario che il responsabile SUAP nella comunicazione di indizione indichi termini per la richiesta di integrazione documentale e dichiarimenti. Ora, è vero che, come dicemmo l'altra volta il 21 dicembre, questi termini sono già per legge, sono già scritti, cioè il termine massimo sono in 15 giorni isolari e consecutivi dalla ricezione della comunicazione di indizione, tuttavia è importante richiamarlo. Quindi nella comunicazione di indizione il responsabile del procedimento dovrà indicare, appunto, i termini per richiedere integrazione documentale o chiarimenti. Ma così come vanno indicati i termini per l'espressione del parere definitivo, che vi ricordo sono 45 giorni per gli enti non preposti alla tutela di rango costituzionale o di 90 invece per gli enti preposti alla tutela di interessi di rango costituzionale. Però qua parliamo di una normativa speciale, di una legge speciale, di un procedimento speciale, ecco perché l'articolo 14 bis opportunamente dice, naturalmente, i 45 e 90 giorni fermo restando quanto previsto dall'esigenza di chiudere il procedimento nei termini. Abbiamo visto prima, commentando l'articolo 17 bis, che la conferenza, in questo caso, nella regione Piemonte, conferenza di variante, deve chiudersi entro 30 giorni. Quindi i pari termini di 45 e 90 giorni sono in questo caso recessivi rispetto all'obbligo di chiudere la conferenza nei 30 giorni. Tuttavia, il termine indicato in 30 giorni deve decorrere soltanto nel momento in cui la documentazione è correttamente presentata, quindi da quando è completamente presentata, e non possono andare a detrimento dei termini concessi per il pronunciamento. Quindi, secondo la norma regionale, secondo la circolare regionale, i termini di 30 giorni decorrono da quando la documentazione sia stata correttamente presentata. Per quanto riguarda poi l'integrazione tra l'inconferenza, tra il procedimento di variante, il procedimento di BAS, quindi di valutazione ambientale strategica, ci si rimanda, alla DGR, quella del 29 febbraio 2016, quindi di cui chiaramente per brevità qui non parleremo. Aspetti importanti, tuttavia, sono relativi alla... Ecco, una breve, giusto tre slide di rassegno giurisprudenziali, mi era sembrato opportuno inserirla, perché che riguarda sia il Consiglio di Stato che TAR, ma anche la Corte Costituzionale, perché appunto nella formulazione un po' come dire veloce dell'articolo 8, poi chiaramente la giurisprudenza in questi anni, in questi primi 11 anni, diciamo così, di applicazione dell'articolo 8, ha dato una serie di statuizioni molto molto importanti. Infatti, la sessione quarta del Consiglio di Stato, in questa sentenza, 27 del 2016, ci ricorda, questa sessione ha sempre sottolineato in modo rigoroso il carattere eccezionale e derogatorio della procedura disciplinata dal ricordato articolo 5. Qua la sentenza fa riferimento all'articolo 5, perché al tempo in cui fu proposto il ricorso, che poi, sapete, dati i tempi della giustizia italiana purtroppo, il ricorso era stato fatto in vigenza della vecchia normativa dello sportello unico, che era il vecchio DPR 447 del 98, chi di voi lavora da un po' di anni al SUAP forse se lo ricorderà, dove era l'articolo 5, e non c'era l'articolo 8, ma l'articolo 5, che disciplinava il procedimento di variante urbanistica sul progetto. Quindi non può essere trasformata la variante puntuale, dice il Consiglio di Stato, sorrettiziamente, quindi in maniera quasi nascosta, in una modalità ordinaria di variazione dello strumento urbanistico generale. Quindi devono essere preventivamente accertati, in modo oggettivo e rigoroso, i presupposti di richieste della norma. Quindi quali sono fondamentalmente questi requisiti? Quelli che vi ricordate, secondo la normativa regionale del Piemonte, devono essere verificati prima dell'indizione della convocazione, di cui va dato atto nell'atto di indizione. Sono l'assenza nello strumento urbanistico di aree destinate a insediamenti produttivi, oppure l'insufficienza di questa. Cosa si intende per insufficienza? Si intende in costanza degli standard previsti, una superficie non congrua, e quindi insufficiente, in ordine all'insediamento di realizzare. Quindi, dati i standard previsti dallo strumento urbanistico vigente, la superficie non è congrua rispetto a quello che io voglio andare a realizzare come imprenditore. In questi casi, ci ricorda la stessa sentenza, è chiaro che il presupposto di fatto, quindi il presupposto fattuale costituito dall'assenza o insufficienza di aree a destinazione specifica o coerente con il progetto, deve essere intesa in che senso? Nel senso che occorre verificare la disponibilità non soltanto delle cosiddette zone D, quelle che secondo il decreto del 1444 del 1968, è proprio la zona tipicamente destinata alle attività produttive, ma anche, dice il Consiglio di Stato, ad altre aree, che potrebbero essere utili comunque per un progetto di carattere imprenditoriale, quale sicuramente le zone C, le cosiddette zone di espansione, quindi anche aree con destinazione commerciale, anche se non in via esclusiva, possono essere considerate, quindi questo è sempre nell'ottica di considerare la variante come uno strumento eccezionale, quindi dice il Consiglio di Stato, non basta dare atto che non ci sono zone D sufficienti alla congruere rispetto al progetto presentato nel nostro strumento urbanistico, ma che non ci siano in generale altre aree, come per esempio anche le aree di zona C. Tutto ciò premesso, in questo caso, ci ricordo dal Consiglio di Stato, il giudizio di insufficienza è scaturito, non già da una insufficienza delle superfici, ma da un apprezzamento tecnico discrezionale dell'impatto che la realizzazione della struttura avrebbe avuto sulle diverse risorse di destinazioni impresse alle medesime aree, quindi praticamente qui il Consiglio di Stato dice fondamentalmente che è quello che dobbiamo verificare sempre che ci siano delle aree, non necessariamente zone D, che devono essere insufficienti e quindi non congruere rispetto al progetto presentato. Un'altra sentenza importante del Consiglio di Stato ci ricorda che, per quanto riguarda il discorso dell'ampliamento, dice la realizzazione di manufatti in ampliamento strettamente funzionali all'attività produttiva dello stabilimento esistente non può prescindere dalla localizzazione nella stessa area, postulando, quindi richiedendo come necessario un collegamento anche logistico rispetto all'esistente. È chiaro, se io chiedo un ampliamento, quindi non è la nascita di un nuovo epificio, ma un ampliamento di quello esistente, è chiaro che per parlare di ampliamento deve essere nella stessa area, non necessariamente proprio attaccato dal punto di vista fisico, ma almeno deve esserci un collegamento logistico rispetto all'esistenza. E sempre sull'aspetto dell'ampliamento, c'è quest'ultima sentenza del Tar Sicilia, la sezione di staccate di Catania del 2015, che ci ricorda che nell'ipotesi di ampliamento di un insediamento produttivo preesistente, quindi se io vado ad ampliare un insediamento produttivo che è già esistente, la necessità di variare lo strumento urbanistico deve essere valutata rispetto al progetto presentato, quindi tenendo conto del fatto che si tratta di un progetto di un insediamento già esistente, quindi l'area di destinare all'ampliamento non può essere ricercata altrove, ma deve essere instabile e diretto collegamento con quella dell'insediamento principale e da ampliare. Quindi come vedete è una specificazione, una diversa articolazione di un principio che già era stato dato con la precedente sentenza del Consiglio di Stato del 2013. Il Consiglio di Stato aveva richiesto un collegamento anche logistico rispetto all'opificio esistente, il Tar Catania dice che deve essere la nuova realizzazione, il nuovo manufatto che costituisce ampliamento dell'impianto esistente e deve essere instabile e diretto collegamento con l'insediamento principale e da ampliare. Allora, quindi ciò premesso, vediamo qualche domanda che avete fatto. Allora, vediamo, vedo che ne stanno arrivando diverse, vediamone già una, qual è il ruolo e la responsabilità del SUAP dell'individuazione degli endoprocedimenti coinvolti nell'ambito del procedimento unico. Allora, questa è una bella domanda. Abbiamo detto che il responsabile del SUAP non può essere chiamato a sindacare la legittimità formale o sostanziale di un parere, noi non siamo un ente che è preposto a dare giudizi di validità o non validità, di legittimità o non legittimità di un parere, noi ne prendiamo semplicemente atto. Quello che è importante, così come non rispondiamo di pareri non espressi, quelli li dobbiamo considerare come favorevoli e incondizionati. Quello che è importante è che però noi un endoprocedimento lo attiviamo. Per cui, come dobbiamo comportarci, quindi qual è la nostra responsabilità, chiede la collega, nell'individuazione degli endoprocedimenti coinvolti. Da questo punto di vista è molto utile la modulistica unificata e standardizzata, che in sede di conferenza unificata a Stato-Regioni si sta predisponendo, per la verità, negli ultimi tempi a ritmi un po' ridotti rispetto all'inizio, ma ad ogni modo che si sta predisponendo per tutta una serie di attività produttive che poi le regioni, tra cui ovviamente anche la regione Piemonte, hanno in qualche modo regionalizzato, cioè adattato alla normativa regionale. Perché dico questo? Perché nella modulistica unificata e standardizzata, sia nella parte iniziale, quindi nelle dichiarazioni che fa il privato, ma sia soprattutto nell'elenco della documentazione dell'allegare, sono contenute tutta una serie di informazioni che mettono i responsabili del suo app sulla strada giusta per capire quali sono appunto questi endoprocedimenti. Sono dichiarazioni che fa il privato. Naturalmente questo è un aspetto che non ho scritto nelle slide, ma che fa parte della vita quotidiana di ognuno di noi che ha lavorato in uno sportello unico. È chiaro che all'inizio, quando nelle prime settimane, nei primi mesi che ci si trova catapultati allo sportello unico, magari dopo aver lavorato per anni o per decenni addirittura in tutt'altro settore, c'è un po' di spaesamento. Tuttavia, con il tempo, diciamo, le cose si imparano e quindi un minimo di infarinatura su quelli che sono gli endoprocedimenti da adottare naturalmente si acquisisce. Però ripeto, per molti dei procedimenti più complessi basta pensare al modello unico previsto, che ne so, per la grande distribuzione di vendita oppure il modello unico previsto per i permessi di costruire. Lì ci sono delle aree dove è l'interessato e per esso sicuramente il suo tecnico, l'intermediario che ci presenta la domanda, che ci deve indicare quali sono gli endoprocedimenti da attivare. È chiaro che io posso essere talmente bravo ed esperto che mi accorgo che l'interessato non mi ha fleggato, diciamo così, non mi ha indicato un endoprocedimento che secondo me aveva attivato, gli posso fare una richiesta di chiarimenti, ma altrimenti io posso, naturalmente prenderò per buona quelle che sono le indicazioni provenienti dall'interessato e le trasmetterò ai colleghi degli altri uffici, degli altri enti. Ho fatto l'esempio del permesso di costruire, trasferirò in questo caso la domanda di permesso di costruire con gli allegati previsti dal procedimento al mio collega dello sportello unico per l'edilizio, il quale naturalmente potrà, sicuramente dovrà indicarmi quali sono gli endoprocedimenti che secondo lui non sono stati presi in considerazione. Dopodiché, naturalmente, c'è sempre, ripeto, la responsabilità primaria del tecnico che ha presentato la pratica. Allora, vediamo un'altra domanda. Allora, come si può collegare una pratica su app di autorizzazione con una scia in alternativa al permesso di costruire? Beh, sicuramente la scia alternativa al permesso di costruire è quella prevista dalla... vado a memoria, insomma, mi sembra l'articolo 22-23 bis del 380 del 2001, ma, diciamo, in questi casi non c'è nessuna problematica particolare, quindi bisogna considerare come efficace il termine previsto dalla singola norma di settore. Quindi ci saranno delle... ci sarà una parte di documentazione presentata dal... dalla parte di documentazione presentata dall'interessato che ha efficacia immediata o, per esempio, di ferita a 30 giorni come in questo caso. In altri casi, invece, occorre presentare... occorre presentare la... occorre presentare una... attivare endoprocedimenti autorizzatori. In quel caso, questo è il tipico caso, ad esempio, della scia condizionata. Quindi ci sono dei casi in cui l'attività principale in sé è soggetta a scia, quindi a segnalazione certificata di inizio attività. Tuttavia, ci sono degli endoprocedimenti autorizzatori. In questo caso, questo poi ne parlerà meglio il collega della prossima settimana, in questo caso il suo app indice ed eventualmente convoca la conferenza dei servizi per gli endoprocedimenti che richiedono il rilascio di un'autorizzazione. Una volta terminata la conferenza dei servizi, favorevolmente, quella scia che già era stata presentata esplica pienamente la sua efficacia. Ecco perché si chiama scia condizionata. Cioè una scia alla cui efficacia è condizionata al positivo espletamento della conferenza dei servizi. Allora, poi un'altra domanda, la sto prendendo così, un po' random. In quali casi l'istanza su app è improcedibile e irricevibile? Allora, questa è una domanda interessante perché noi spesso facciamo un po' di confusione su alcuni istituti che sono simili ma poi non sono proprio così simili. e cioè l'improcedibilità, l'irricevibilità e c'è anche una terza categoria che è l'inammissibilità. Allora, l'improcedibilità e questa è una cosa che ecco, magari in un regolamento su app interno o come dire, condiviso con altri enti per la gestione in forma associata sarebbe sempre utile inserire. quindi cosa vuol dire un'istanza un'istanza improcedibile irricevibile inammissibile? L'istanza è improcedibile quando manca a monte un'attività istruttoria che la legge ritiene necessaria per poter attivare quel procedimento. Immaginiamo come in questo caso una richiesta di una quando vi sia un'attività come dire non è stata fatta ad esempio per la per la per la non è stata fatta la previa verifica di assoggettabilità a BAS oppure non è stata compiuta un'attività un'attività propedeutica ad esempio è un'ipotesi di scuola insomma ma così non è stata chiesta una concessione di suolo prima di chiedere una licenza ad esempio per uno stabilimento balneare oppure una concessione in area pubblica di tipo A quindi non ho a monte non ho attivato un procedimento amministrativo che mi consenta di poter a valle chiedere al SUAP quel titolo autorizzatore questa è l'improcedibilità l'irricevibilità invece riguarda un aspetto più formale e cioè quando la pratica è priva completamente di quei requisiti di quegli estremi che mi facciano considerare l'istanza stesso la scia istruibile quando manca tutto non riesco minimamente a capire di che cosa stiamo parlando chiaramente non c'è una regola quindi è rimesso alla prudente discrezionalità del responsabile del procedimento stabilire se una pratica è come dire integrabile quindi posso fare una posso ritenerla ricevibile ma farò una richiesta di integrazione documentale quando invece la pratica è ricevibile chiaramente fare sempre domande domande di questo lo dico sempre fare non considerare mai la pratica irricevibile fare sempre domande di integrazione può essere un'arma a doppio taglio perché ci troviamo poi tutta una serie di pratiche aperte che dobbiamo gestire invece nei casi più estremi dichiarare una pratica irricevibile consente di chiudere quel procedimento anche dal punto di vista telematico e poi la pratica come sapete essendo ormai tutta dematerializzata può essere tranquillamente ripresentata anche a breve termine l'inammissibilità invece è quella che riguarda le qualità personali del richiedente quindi io non ho le qualità per poter presentare quella pratica che ne so sto presentando una sto presentando una pratica che richiede che richiede una particolare abilitazione personale e non c'è quindi in questo caso non ho quella abilitazione personale in ogni caso la pratica si dichiara inammissibile che non c'entra niente sia per l'improcedibilità che per la irricevibilità che per la inammissibilità noi non siamo proprio entrati nel merito della pratica quindi questa è una verifica che farò in fase iniziale dell'istruttore altro è invece il rigetto della domanda alla comunicazione di motivi ostativi oppure nel caso della scia la richiesta di conformazione o nei casi più gravi come poi vi dirà l'ingegner Pugioni la prossima settimana il divieto di prosecuzione dell'attività e lì nella scia lì parliamo già di un aspetto dove sono entrato nel merito della pratica che mi è stata presentata allora andiamo ancora avanti dunque allora leggo sarebbe possibile avere degli schemi di endoprocedimenti per noi neofiti con i riferimenti degli enti e uffici da coinvolgere in base alle casistiche e ai termini di conclusioni degli stessi allora guardi lo dico molto sinceramente schemi da questo punto di vista io non gliene posso dare perché per il semplice motivo che non che non bene sono quindi con riferimento dei singoli uffici da coinvolgere in astratto non è possibile però se lei se lei si si dà una come dire una letta della della modulistica unificata e standardizzata che è stata fatta dal 2017 ad oggi e di ulteriore eventuale modulistica standardizzata predisposta dalla regione lei vedrà che nella documentazione allegata per quella determinata attività quale può essere un'attività un'artigianale un'attività un'attività commerciale o quello che sia lì già troverà indicazioni più che utili in alcuni casi esaustive su quali sono gli uffici e gli enti da coinvolgere allora vediamo ancora avanti allora vediamo un poco scusate un attimo allora allora variante urbanistica puntuale come si concilia la previsione di una doppia seduta di conferenza di servizi prevista dall'articolo 17bis della legge regionale 56 del 77 con la possibilità di convocare una conferenza di servizi semplificata quella prevista ai sensi del 14bis spesso gli istanti chiedono di presentare solo la richiesta di autorizzazione paesaggistica e legittima il swap in questo caso deve rilasciare un atto conclusivo allora intanto parto dalla fine il swap deve sempre rilasciare un atto conclusivo ogni procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso questo lo prevede l'articolo 2 della legge 241 ma lo prevede anche lo prevedono anche gli articoli 14 e seguenti della 241 assolutamente quindi l'atto conclusivo ci vuole sempre dopodiché io ho detto prima è scontato che una conferenza ai servizi complessa e importante come quella come quella come quella di variante urbanistica ancorché puntuale non di area vasta come in questo caso vada compiuta in forma contestuale che non vuol dire attenzione obbligo di vederci soprattutto adesso che riesplosa purtroppo la come dire la pandemia da covid-19 non vuol dire che dobbiamo riunirci infatti opportunamente la circolare regionale che vi ho citato del 2019 del febbraio 2019 come se aveste percorsi i tempi invita a tenere questo tipo di conferenze in modalità in modalità virtuale quindi telematicamente non necessariamente in presenza questo è chiaro però quindi è chiaro che la la forma la forma normale la forma ordinaria di una conferenza di servizi di variante è la conferenza contestuale va bene quindi da questo punto di vista problemi non ve ne sono perché sul tutto sommato non vedo questa realmente questa possibilità di convocare in questo caso una conferenza di servizi semplificata ai sensi del 14 bis spesso gli istanti chiedono di presentare solo la richiesta di autorizzazione paesaggistica ma mi sembra un po' strano per una per una variante se io sto chiedendo una variante non è che chiedo soltanto la richiesta di autorizzazione paesaggistica chiederò sicuramente qualcos'altro il dato anzi a cominciare che cosa serve la conferenza di servizi serve a rendere conforme il mio progetto alla vigente strumentazione urbanistica comunale e deve essere sempre coerente con la sovraordinata pianificazione urbanistica territoriale di carattere provinciale regionale eccetera quindi non vedo da questo punto di vista grosse problematiche andiamo avanti allora mediante quale metodo responsabile su app individua correttamente tutti i portatori di interesse da convocare nella conferenza ai servizi ma questo non è non è un atto un atto strettamente necessario cioè non devo necessariamente individuare tutte le tutti i soggetti a cui devo fare singolarmente la convocazione quello che è importante è che io pubblichi perché io posso anche non sapere quali sono tutti i portatori di interesse l'importante è che io pubblichi in maniera assolutamente trasparente l'atto di indizione o la convocazione e dia la possibilità ai portatori di interesse di conoscere appunto l'esistenza e l'indizione della conferenza dei servizi su questo assolutamente non ci sono problemi quindi una forma di comunicazione fatta in via generale e astratta attraverso pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente del mio sito ancora dunque vediamo un poco allora nel caso di una richiesta di permesso di costruire che interessi solo al SUE ma che riguardando un'attività produttiva viene trasmessa attraverso il SUAP è corretto che il SUAP alla fine del procedimento non rilascia un procedimento unico ma si limiti a trasmettere il permesso di costruire all'interessato e allora no purtroppo io devo risponderle lei mi fa una domanda naturalmente che io lo capisco perché sono stato anch'io per anni come dire addetto e anche responsabile di sportello unico quindi capisco l'esigenza di semplificare e di velocizzare però se lei mi fa una domanda formale io le rispondo formalmente e le rispondo no non è corretto per i motivi che ho detto prima cioè se la pratica è di edilizia produttiva la pratica deve essere veicolata attraverso il SUAP quindi alla fine il provvedimento unico deve essere trasmesso sempre dal SUAP all'interessato quindi attraverso un proprio provvedimento unico quindi deve esserci sempre il rilascio di un proprio provvedimento il responsabile dello sportello unico deve concludere il provvedimento con un proprio provvedimento quindi alla fine la forma deve essere quella di un provvedimento del SUAP che naturalmente incorpora anche soprattutto in questo caso esclusivamente il permesso di costruire ma formalmente deve essere un provvedimento SUAP del resto una conferma indiretta di quello che le sto dicendo lo può verificare ad esempio nel caso dell'AUA anche lì anche se non ci sono endoprocedimenti di carattere comunale quindi si tratta solo di endoprocedimenti di altri soggetti competenti ne parleremo in un webinar mi sembra all'inizio di febbraio che terrò io anche lì in quei casi si prevede che l'autorità competente adotta il provvedimento di AVA che poi deve essere formato che la trasmette al SUAP il SUAP deve fare un suo provvedimento di AVA allora altra domanda le verifiche preliminari alla convocazione della conferenza dei servizi entro quali termini questa è una fase che non è stata procedimentalizzata e quindi non è stata come dire normata dal punto di vista della tempistica naturalmente ricordiamoci che l'articolo 2 della 241 prevede che in ogni caso qualora non avvisi una norma speciale settoriale in questo caso anche regionale oltre che settoriale che prevede una tempistica il termine generale per la conclusione dei procedimenti è di 30 giorni quindi una norma non solo di buona amministrazione ma di leale collaborazione nei rapporti della pubblico e privato prevede che questa verifica è preliminare la collega si riferisce chiaramente alla verifica della insufficienza o anche soltanto o addirittura alla totale assenza di aree congrue rispetto al progetto presentato dall'imprenditore deve compiersi entro 30 giorni ancora vediamo qualche altra domanda prima di finire chiaramente come è stato già detto prima dalla collega da Paola Pirani io risponderò a tutte le domande che mi avete fatto per iscritto lo troverete sulla pagina web di Eventi IPA io adesso sto rispondendo giusto a qualcuna ma poi a tutte non mi preoccupate daranno la risposta che troverete nei prossimi giorni sul sito di Eventi IPA allora vediamo un attimo variante se vi è il parere favorevole regionale ma una delibera comunale che invece è contraria cosa prevale guardi quello che le ho detto prima come ho esposto e cioè in questi casi assolutamente tassativo il fatto che anche se vi è il parere favorevole della regione quello contribuisce a concludere positivamente un procedimento che è il procedimento di conferenza di servizi finalizzato ad adottare una proposta di variante quindi viene adottata una proposta di variante poi si apre come ha ricordato la corte costituzionale con la sentenza di qualche anno fa che ha dichiarato in questo incostituzionale una legge della regione Lombardia si apre successivamente un nuovo procedimento che è di carattere più prettamente politico e non tecnico che è quello dell'approvazione della variante in questo il consiglio comunale è sovrano il consiglio comunale può addirittura come abbiamo visto prima nella vostra normativa regionale può addirittura decidere di non decidere o semplicemente nella prima seduta utile non decidere sulla variante in questo caso l'intero procedimento decade ecco perché alcuni comuni alcune regioni hanno in qualche modo cercato di aggirare il problema cercando di acquisire a monta di tutto il procedimento un qualche input politico da parte di che ne so in alcuni casi giunta comunale in altri casi commissione consigliare competente dell'urbanistica eccetera per avere se non altro un sentore di quale sia il gradimento di questa proposta da parte della politica del comune perché guardate questa non è una indebita commissione tra politica e gestione noi nei nostri webinar leggendo le leggi sappiamo diciamo sempre la politica deve rimanere fuori dalla gestione io sono il primo a dirlo ma attenzione qua non è un procedimento tecnico come dire autorizzatorio a 360 gradi qua è un procedimento tipicamente misto la variante urbanistica la pianificazione urbanistica è qualcosa che comincia tecnicamente ma si conclude sempre e comunque con una valutazione di carattere politico quindi è giusto che vi sia da questo punto di vista la condivisione della politica e quindi in questo caso della maggioranza del consiglio comunale la quale se non trova la quadra non c'è il consenso purtroppo noi possiamo fare la come dicevo prima possiamo porre in essere la più perfetta conferenza dei servizi ma quella rimarrà tale non avrà esito perché il procedimento si considererà decaduto dunque andiamo ancora avanti allora si può consultare il decreto legisario ah sì giustamente la collega ricorda sicuramente che la tabella legata al decreto scia 2 cioè il 222 dà un'utile indicazione questo lo dicevo a quel collega che umilmente si definiva neofita ma qua siamo un po' tutti neofiti perché la norma cambia di continuo e quindi veramente siamo tutti neofiti il 222 è quella tabella del 2016 il cosiddetto decreto scia 2 è quello che prevede tutta una serie di endoprocedimenti che vanno che vanno attivati naturalmente anche lì non è che trovate proprio una casistica del tutto esaustiva ma sicuramente quella quella è la base la base di tutto io a Paola vedo che è scoccato il gong zero con il campo rosso quindi a questo punto vi saluto e vi ricordo che risponderò a tutti i pareri per iscritto nei prossimi giorni e ci rivediamo a breve grazie 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 Riccardo grazie a tutti voi per aver partecipato allora vi ricordo che nella pagina di eventi piani la quale vi siete iscritti troverete a breve la registrazione e le slide e poi tra qualche giorno anche la risposta a tutte le vostre domande grazie ancora e ci vediamo il 18 ricordo a tutti di iscrivervi ad ogni evento grazie ancora a tutti e buon proseguimento grazie grazie a tutti